alice cascherina di gianni rodari questa è la storia di alice cascherina che cascava sempre e dappertutto il nonno la cercava per portarla ai giardini alice dove sei alice sono qui nonno dove qui nella sveglia ed ora le toccava saltare continuamente proprio per non essere travolta da tutti quei meccanismi un'altra volta il nonno la cercava alice dove sei alice sono qui nonno dove è qui che non ti vedo proprio qui nella bottiglia il nonno calò una cordicina dentro la bottiglia e alice vi si aggrappò un'altra volta ancora alice era scomparsa nel curiosare in cucina era caduta nel cassetto delle tovaglie e lì si era addormentata nessuno riusciva a trovarla ma alice stanca di aspettare trovò il fondo del cassetto e cominciò a battere appena la ritrovarono alice ne approfittò per cascare nel taschino della giacca del papà e quando la tirarono fuori aveva tutta la faccia impiastricciata d'inchiostro ecco e la solita alice cascherina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti